Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 29 settembre, ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni capitolo 1 versetti dal 47 al 51. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui ecco davvero un'israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò come mi conosci? gli rispose Gesù. Prima che Filippo ti chiamasse io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele. Rabbì tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. gli rispose Gesù. Perché ti ho detto? Che ti avevo visto sotto l'albero di fichi? Tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse in verità, in verità, io vi dico vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Il Vangelo di oggi è in relazione alla festa liturgica che celebriamo, quella dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. In questo testo del Vangelo secondo Giovanni si racconta dell'incontro di Gesù con Natanaele che è venuto a incontrare Gesù grazie all'invito fatto da un altro apostolo, l'apostolo Filippo appunto, il quale gli aveva parlato del rabbinozzareno. Quindi Natanaele va incontro a Gesù con un certo entusiasmo. Si tratta di un episodio raccontato solo nel Vangelo secondo Giovanni e comunque la tradizione identifica questo episodio come l'episodio della chiamata dell'apostolo Bartolomeo. Sembra proprio che Natanaele sia stato poi rinominato da Gesù come Bartolomeo. Due elementi di questo testo legano le parole di Gesù utilizzate in questo incontro alla festa che noi oggi celebriamo, la conoscenza e la visione. C'è una conoscenza di Gesù che precede lo stesso Filippo sulla persona di Natanaele. Infatti Natanaele si stupisce di essere conosciuto dal maestro e si stupisce che questa conoscenza valga più della presentazione che le ha fatto lo stesso Filippo. Quindi questa conoscenza viene da una visione che precede quella di lui sotto l'albero di Fichi. L'albero di Fichi è un elemento simbolico per dire che nel linguaggio rabbinico appunto utilizzato nel linguaggio rabbinico per dire che la conoscenza è acquisita attraverso lo studio. Il Fico è l'albero della conoscenza che però è una conoscenza particolare quella che si acquisisce attraverso lo studio. Nel mondo ebraico lo studio è molto importante perché attraverso lo studio si conosce la realtà di Dio, la scrittura che ci apre a una relazione personale con Dio. Il mezzo del libro, della scrittura è qualcosa che ci unisce a livello relazionale con Dio. Quindi più si studia, più si approfondisce, più cresce una certa relazione. Ecco allora che Gesù precede Natanaele nella conoscenza di ciò che ha fondato la vita di Natanaele, lo studio, la ricerca della conoscenza. Vedete che conoscenza è una parola chiave di questo testo e subito Natanaele non può che riconoscere in Gesù il figlio di Dio, il re di Israele, no? Perché ha tutta la sapienza di questa vita trascorsa nella conoscenza, nella ricerca. Subito Natanaele non può che appunto riconoscere il re di Israele. A questo punto però Gesù introduce una seconda visione legata alla conoscenza e questa volta si tratta di una conoscenza ancora più alta perché la visione stessa è una visione che non riguarda una sola persona, quindi solo Natanaele in questo caso, ma tutta l'umanità. Gesù dice vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Una visione accessibile a tutti perché è scritto vedrete che conduce alla conoscenza del futuro, quindi che si realizzerà nel compimento escatologico in cui ogni conoscenza troverà il suo compimento perché alla fine dei tempi Dio sarà tutto in tutti e non ci sarà bisogno di nessuna spiegazione, come dice San Paolo. Interessante è il contenuto di questa visione, non più un uomo sotto l'albero di fichi a indicare la dolcezza della conoscenza accessibile a una persona, ma il cielo aperto, gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Ecco allora che in questa liturgia di oggi contempliamo proprio questo splendore, la forza, la grazia delle creature angeliche che ci mostrano e ci sono da tramite nella conoscenza di Dio, come conoscenza accessibile a tutta l'umanità. Gli angeli, in particolare gli arcangeli, sono proprio quelle creature che per amore di Dio ci rendono accessibile la conoscenza di Dio. Gabriele, forza di Dio, ci rende accessibile la conoscenza della forza di Dio. Raffaele, guarigione di Dio, ci rende accessibile la conoscenza della guarigione di Dio nella nostra vita. E Michele, chi è come Dio, ci rende accessibile l'identità di Dio stesso che vince le forze del male in noi. Ecco quindi celebriamo insieme a queste creature celesti che ci aiutano nella nostra vita. Celebriamo Dio stesso e ringraziamo il Signore perché si è fatto conoscere a ciascuno di noi e noi possiamo riconoscerlo in questa visione delle piccole cose nella vita quotidiana. Possiamo veramente vedere, conoscere, gustare l'amore di Dio attraverso anche la mediazione di queste creature angeliche. Ringraziamo il Signore. Buona giornata. Ringraziamo il Signore.